Le prime impressioni e soprattutto i primi obiettivi della Presidente Canfora insieme al suo nuovo Consiglio? Non è la prima volta che vengo, già ci sono stato in campagna preelettorale, ho avuto modo di apprezzare questa stupenda terra, una terra veramente magnifica, magnifica per il calore umano, magnifica per le ricchezze naturalistiche, magnifica per le ricchezze archeologiche, architettoniche, insomma è una terra di cui sono innamorato, ma da sempre. Quindi no, ci ritorno per approfondire le conoscenze, per rendermi personalmente conto di come effettivamente su certe problematiche il Cilento vive momenti di disagio e di sofferenza. E poi sto qua con autorevoli esponenti, non soltanto delle istituzioni locali, insomma, il sindaco Paolo Imparato, il donato Pica, il vostro sindaco, insomma, tanti consiglieri comunali, insomma sono circondato da persone che amano il territorio e che lavorano per il territorio con il quale io voglio semplicemente agire in sinergia. Ecco, l'ha detto lei, problematiche legate a questa terra, dai trasporti alla viabilità, alla questione tribunale, allo sblocca Italia sulle trivellazioni petrolifere nella vicina Valdagri e di riflesso anche nel Vallo di Diano. Come si comporterà la provincia di Salerno? Un flash? Ma un flash, intanto stiamo facendo, come dire, una ricognizione sia a livello di istituzione provincia con i responsabili dei settori, perché dobbiamo anche sapere per bene dove agire prioritariamente. E poi con il caposettore agli affari finanziari stiamo cercando, nel rispetto del patto di stabilità, di cercare quei fondi per iniziare un'opera, come dire, di sistemazione, insomma, soprattutto dell'edilizia scolastica, della viabilità. Questo è il lavoro che stiamo facendo in questi giorni, in queste ore.